Eccoci qua ancora in tradizione, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale Parmesan 8 a Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica a Vicenza. Allora, intanto, vi ricordo il modello 740, la donazione dell'8 per mille, non firmate per nessuna religione, firmate per lo Stato, lo Stato anche se non vi piace si può sempre cambiare, le religioni rivelate hanno una verità che uccide. Questo ricordatevo sempre, firmate per lo Stato, firmate per lo Stato, male che li usi, li userà sempre in maniera meno dannosa che non le religioni rivelate. Altro comunicato, vi ricordo che sabato 10 giugno alle ore 17, Treviso, Casa dei Carraresi, Sala dei Brittoni, Margherita Hac, terrà una conferenza dibattito sul tema scienze e religioni. Le religioni sono in contrasto con la scienza? Sì, tutte le religioni rivelate che hanno una verità sono tutte in contrasto con la scienza. Per cui, se volete ascoltarvi, Margherita Hac, è organizzato questo dall'Associazione Mazziniana Italiana Circo di Treviso, Circo Culturale Bertrand Lasse, Sede di Treviso e Associazione Filosofica Trevisiana. Altro discorso, vi ricordo l'appuntamento sull'altipiano di Asiago per una domenica di agosto per un rito da Deuotio che facciamo, anche se è una Deuotio molto leggera e se è più che altro un incontro fra persone e quasi un divertimento. Bene, detto questo, riprendiamo il discorso della trasmissione di oggi. Oggi non leggerò Tommaso Didimo, come avevo idea, per far comprendere alcuni aspetti della teogonia di Esiodo. La teogonia di Esiodo, quella che stiamo commentando nella prima trasmissione, viene praticamente scritta attorno all'VIII secolo a.C. Quello che vi sto leggendo è vecchio di 2800 anni, però è un vecchio che tenta sempre di riproporsi in maniera diversa e sotto forma diversa. Se non fosse mai stata scritta la teogonia, sarebbe stata comunque scritta e letta in maniera diversa. Quando io ho iniziato il percorso da Apprendista Stregone, una delle varie tappe del mio percorso è stata la scrittura del Libro dell'Anticristo. Il Libro dell'Anticristo è diviso in cinque parti, erano sei parti, ma la sesta parte è diventata Gesù di Nazareth l'infame umana. La prima parte è il Vangelo dell'Anticristo, la seconda parte è la via umana al divenire eterni, la terza parte è la fondazione della libertà, la quarta parte è l'Anticristo e il mondo circostante, e la quinta parte è la menzogna cristiana sulla realtà di Dio. E in questo libro, nella prima parte, cioè nel Vangelo dell'Anticristo, è praticamente scritta le stesse cose che trovate nella teogonia di Esiodo, cioè la formazione dell'universo, la formazione della vita. Dove quanto costruisce la vita, quanto costruisce la coscienza, è presente all'interno degli oggetti, all'interno degli enti, all'interno degli esseri, e le forze da costruzione, quelli che oggi io chiamo gli dèi, sono presenti all'interno della vita stessa, cioè all'interno degli esseri umani, all'interno degli esseri della natura, all'interno del pianeta, e così via. Cioè, in pratica, non esiste nessun Dio creatore. Per farvi comprendere, io l'ho già letto il libro dell'Anticristo ancora due anni fa in radio, e probabilmente alla fine di Tommaso Didimo lo riprenderò un'altra volta, perché è il testo fondamentale, cioè, io allora, quando ho scritto il libro dell'Anticristo, non mi consideravo pagano. Se qualcuno mi diceva che ero un pagano, un politeista, mi sarei arrabbiato. Cioè, io non ero pagano, ero un apprendista stragone, ma non potevo considerarmi pagano politeista. Pagano politeista lo divenne dopo, cioè, dopo che ho scritto questo libro, circa 5-6 anni dopo, quando ho scoperto che le linee di tensione che ci attraversano sono coscienti e consapevoli, esattamente come noi, hanno le stesse forze che le attraversano e sono formate da crogioli, da crogioli che tentano di diventare eterni, cioè, tentano di costruire loro stesse. Questa fu la scoperta che mi fece passare dalla stragoneria pure semplice, cioè, dal percorso di stragoneria che stavo facendo, al paganesimo politeista. Una cosa, comunque, non potevo fare, non potevo fare, come ha fatto Dimitri, è individuare nel satanismo lo sbocco. Perché questo? Perché Dimitri, come orfano, ha avuto una vita da cattolico, cioè, è stato educato da cattolico, e da cattolico ha dovuto fare tutto il processo di ribellione attraverso la percezione del mondo circostante. Per cui, quando lui descriveva quella che era la ribellione nei confronti del mondo circostante, l'ha dovuto descrivere con gli elementi propri, con gli strumenti del cattolicesimo. Per cui Dimitri ha dovuto coprire la sua ribellione, quella che era sottomissione, con la descrizione cattolica, per cui col satanismo, con tutto ciò che questo comporta. E attualmente ha dovuto fare delle battaglie durissime, perché lo stavano utilizzando proprio a livello squallido, ma veramente squallido, e ne abbiamo avuto le prove dei processi. Io, invece, come apprendista stragona, ho avuto una storia, una storia riadatta, cioè una storia da uno che non poteva assolutamente credere in una religione rivelata, e che aveva una storia di ribellione alle spalle, per cui era molto difficile che io usassi dei termini, che usassi dei termini descrittivi dati dal cattolicesimo. E in effetti, a parte il fatto che quando ho scritto questo libro era 1985, per cui ero diventato apprendista stragone da cinque anni, e ho descritto nel modo che potevo allora, con i termini di allora, con la preparazione filosofica di allora, chiaramente dopo ho approfondito, ho lavorato, questo è del 1985, i lavori grossi li ho fatti fra il 1989 e il 1993-95, e dopo ho continuato qui in radio, dal 1996 ho continuato qui in radio. Per cui, dall'85 fino ad oggi ci sono 15 anni di differenza, per cui 15 anni di percezioni, 15 anni di lavori, 15 anni di intento, 15 anni di trasformazione. Però questo resta comunque la sintesi di tutti i principi generali del paganesimo politeista e della stragoneria. Dopodiché si possono ampliare, sistemare, mettere in situazioni diverse, magari uno che studia filosofia, un filosofo professionista, lo leggerebbe, lo scriverebbe in maniera molto più accorta, molto meglio, descriverebbe le cose in modo più culturale delle mie, ma è abbastanza irrilevante questo. E vediamo cosa scrivevo nel 1985 il libro d'Antichezza. Vi ricordo che io allora non conoscevo Esiodo, se non un po' di roba fatta alle medie, ma più che altro come Omero, cioè Ilia d'Odissea, ecco. Però non gli avevo mai dato peso più di tanto. Conoscevo altre cose però. Bene, vediamo un attimino la prima parte, cioè tre capitoletti brevissimi del Vangelo dell'Anticristo, che è legato a quella che è la cosmologia pagana. E vedrete l'assonanza fra le due cose. Infatti l'interpretazione che io do di Esiodo, in pratica, non è altro che una rilettura del libro dell'Anticristo, passando attraverso gli dèi. Cioè le forze che hanno costruito la vita, che hanno costruito l'universo, sono forze divine, cioè sono forze divine e consapevoli. Solo che la loro consapevolezza è molto diversa dalla nostra, per cui noi non siamo né abituati, né abbiamo interesse, né voglia, né di relazionarsi con quella coscienza, con quella consapevolezza. Nonostante questo, queste forze si agitano dentro di noi, è come per Eros che vi ho parlato oggi. Cioè Eros, la sua coscienza è inconoscibile, cioè è di un'università talmente spaventosa, la nostra esistenza, che noi non siamo in grado di andare a vederlo. Questo non significa che ci incuda timore, che noi ci sottomettiamo a Eros. C'è chiaro questo? Cioè non ce ne frega niente di sottomettarsi a Eros. Semplicemente prendiamo atto che esiste un inconoscibile, che non possiamo trasformare in conosciuto e poi in conosciuto, perché non abbiamo gli strumenti per farlo. Ma il fatto che io non abbia gli strumenti per farlo, non significa che mi devo sottomettere a qualcosa che non posso conoscere. Significa che prendo atto semplicemente che c'è qualcosa che in questo momento, in questa fase, con questi strumenti non sono in grado di conoscere. Basta, chiuso. Cioè non è che per questo creo sottomissione. E il discorso vale per tante divinità. Però Eros si muove dentro gli esseri della natura, cioè ha delle rappresentazioni all'interno degli esseri della natura che io riconosco. Cioè ha delle tensioni, sviluppa delle tensioni, delle tensioni di espansione che io riconosco negli esseri che mi circondano. Questo significa che il bisogno di espansione degli esseri, e parliamo anche degli esseri umani nel nostro caso, non è un bisogno morale. Cioè non esiste una condizione morale per cui gli esseri devono espandersi, devono far sesso, devono costruire se stessi, devono studiare, ma esiste una necessità biologica di fare questo. Che il sistema sociale, che è venuto fuori dall'orrore cristiano, imponga delle regole, tenta di regolare questo, per il suo controllo è un altro discorso. Però non esiste una condizione morale per cui io devo o non devo fare sesso, devo o non devo studiare, devo o non devo mangiare, o cosa devo mangiare, o cosa devo bere. Ma esiste una condizione biologica per cui io devo fare questo, e questo è legato alla mia necessità di espansione, cioè all'obbedienza che io debbo, alla tensione interna, che in fondo è l'espressione di Eros, che è l'espressione della vita e della riproduzione della vita. Per cui non esiste una condizione morale, oggettiva, che mi dica io debbo tenere questo comportamento. Esiste una condizione sociale che mi impone un determinato comportamento. Esistono delle regole sociali che mi impongono delle condizioni per le quali io posso stare in mezzo agli uomini altrimenti vengo arrestato. Ma sono delle condizioni sociali, non sono delle condizioni morali, delle condizioni intime, delle condizioni della vita. Si è chiaro questo? E queste condizioni sociali vanno rimosse un po' alla volta, vanno rimosse con i metodi che il sistema sociale le si è dato, in modo di portare verso l'espansione, di portare verso la crescita degli individui. Pertanto io allora, quando scrissi la prima parte che voi leggete in Esiodo, bene, la cosmologia è più o meno la stessa cosa. E dice, dal libro dell'Anticristo, dal Vangelo dell'Anticristo, la prima parte del Vangelo dell'Anticristo, l'universo, la coscienza, era... Ah, di questi libri oltretutto, ricordate bene che di questi libri, il libro dell'Anticristo è il Gesù di Nazareth, l'infamia umana. C'è un sacco di gente che se li sta studiando, per cui non è niente di anormale trovare un Dimitri che praticamente ripete alcune cose mie, perché Dimitri fin da due anni fa, tre anni fa, credo sia preso i libri, se li si è studiati, li ha anche messi in internet proprio per diffondere, perché gli piacciono, per cui chiaramente, non esistendo in giro, non esistendo in giro, una sistemazione di quello che è il pensiero della stragoneria e del paranesimo politeista, è chiaro che questi libri, per quanto siano scritti male, per quanto possono essere barbosi, per quanto, con tutte le pecche che ci sono, sono gli unici libri che esistono della sistemazione della filosofia del paranesimo politeista e della stragoneria. A parte che poi esiste anche a Castaneda, esistono anche altre cose, però diciamo che la sistemazione nella cultura attuale è come metodo operandis, cioè come metodo operativo nella situazione in cui stiamo vivendo ora, questi sono gli unici libri che esistono. Pertanto esiste una necessità da parte di molti individui, io la vedo per esempio nelle email che mi arrivano dall'America, sì, Raven lo hanno letto, però dopo aver letto Raven, sì, gli piace, sviluppa questo pensiero, questa voglia di paganesimo, questa dea immanente all'interno della vita, che lo identificano qualcuno con la luna, un'altra me lo identificava con Hera, un'altra me lo identificava con Diana, però dopo di questo non sanno più che fare, cioè il pensiero che hanno è il pensiero sì dell'esistenza delle coscienze del mondo che ci circonda, però sono vuoti di strumenti, cioè come se non avessero strumenti o armi sufficienti per andare a conquistare la vita. E quello che mi arriva dall'America è proprio una richiesta di soccorso ideologico, diciamo, di soccorso di pensiero, cioè gli strumenti in cui vanno ad affrontare la vita. E la conferenza che abbiamo ottenuto qui a Radiogamma tre anni fa è in effetti uno strumento formidabile. Infatti mi diceva Teresa, una del Canada, che in America lei, che fra le altre cose è laureata anche in lingua inglese, una cosa così, non una cosa che poi faceva appunti perché certe traduzioni andavano bene, ma mia figlia fa il liceo e si è tradotta a una conferenza di filosofia, se permettete. Io sono sempre orgoglioso di questa roba. e diceva che lei in America non aveva mai letto una cosa del genere e che sicuramente lei era preziosa per quello che era la stragoneria nordamericana. Poi staremo a vedere dopo gli sviluppi, può essere che non ne facciamo assolutamente niente. Però c'è una richiesta di strumenti con cui affrontare la vita, con cui definire gli oggetti che ci circondano e relazionarsi con gli oggetti, strumenti per costruire la stragoneria dentro l'animo umano, strumenti per alimentare il Dio che cresce, definirlo più che altro. Perché certe persone lo hanno dentro il Dio che crescono, ma non sanno definirlo. Gli sfugge, è sfuggente, credono magari di essere brave loro, hanno quei flashback, per cui hanno anche delle visioni incredibili di dire che bravo che sono. E invece il percorso che hanno fatto precedentemente che è importante, non il flashback del momento. E si fissano su flashback e perdono di vista il percorso. Perdendo di vista il percorso rischiano di affossarsi. Insomma, tutto questo è il discorso. Bene, allora vediamo il libro dell'anticristo. La primissima parte. I primi tre capitoletti, praticamente è la cosmologia. L'universo. La coscienza era totale. Ogni molecola nel più infimo movimento era contemporaneamente coscienza di sé e coscienza del sé. Ogni infinita porzione di molecole possedeva nel medesimo tempo la coscienza di sé e del sé, suoi e quelli dell'universo intero, sia nella sua totalità, sia nell'infinita individualità delle sue molecole. Gaia, eh? L'universo nel suo insieme era coscienza totale di sé. Egli era il sé. Nel medesimo tempo egli era consapevole e cosciente di ogni sé, di cui egli era la coscienza risultante. Il fluire dell'energia vitale era sempre più lento e faticoso. La trasformazione dei sé non esisteva più. Tutto diventava statico. Così, il sé universale comprese che se voleva continuare ad esistere doveva trasformarsi. Ogni molecola comprese che se voleva continuare ad esistere doveva trasformarsi. Il momento era giunto. Il cammino della trasformazione era intrapreso. Ogni coscienza, ogni particella di materia ed energia da distanti, se inimmaginabili del cosmo, intraprese da prima lentamente, poi via via, sempre più velocemente, il viaggio verso il centro di convergenza. Un numero infinito di volte l'universo era giunto alla totalità della coscienza di sé. Il raggiungimento della coscienza di sé gli permetteva di ricordare e rivivere la coscienza di sé di migliaia di universi precedenti. Quando l'universo sviluppa questa consapevolezza è giunto il momento della propria rinascita. Dopo miliardi di anni al centro di convergenza la pressione divenne fortissima finché si produsse il grande botto. La coscienza di sé e l'universo cessò di esistere e l'universo come noi oggi lo conosciamo prese a poco a poco forma. Lentamente la materia e l'energia cominciarono ad espandersi. Grosse concentrazioni di energia vitale qua e là cominciarono a diventare coscienti di sé incamminandosi lungo la propria via per raggiungere la coscienza del sé. Il nuovo universo era solo agli inizi delle trasformazioni e la sua fucina solo allora cominciava a forgiare coscienze Gaia e Urano stellato. Alcune erano enormi come ammassi stellari altre così piccole che nessun occhio umano mai le avrebbe viste. Piccoli meschinità e grandi progetti grandi meschinità e piccoli progetti entrarono in gioco. L'energia vitale non può essere mai tenuta ferma. Quando questo succede l'energia vitale si trasforma in energia di morte la fonte di ogni male l'immobilità l'orrore la pace dei sensi e delle brame l'arresto di ogni percorso verso la conoscenza di sé e del sé la creazione di fantasmi in menzogne attraverso le quali mascherare il fallimento sul sentiero dello sviluppo della coscienza di sé verso il sé fino a quando la propria energia vitale trasformatasi in energia di morte non venga dissipata e assorbita da una forza vitale più grande ritornando riaccelerata a disposizione di un'altra coscienza di sé continuando il proprio cammino lungo il sentiero che accrescendo la coscienza di sé porta alla coscienza del sé di quella coscienza non resta la traccia questa è la morte e in quel momento noi abbiamo la nascita del nero erebo abbiamo la nascita della notte abbiamo la nascita dei figli della notte abbiamo la nascita di urano stellato e abbiamo urano stellato che si unisce a Gaia l'essere l'energia vitale compressa iniziò a dilatarsi da prima lentamente poi sempre più velocemente masse stellari si raggruppavano e si allontanavano l'una dall'altra lo spazio sembrava inghiottirle distanze enormi venivano superate dall'energia vitale e dalle sue vibrazioni le più grandi concentrazioni di energia vitale presero coscienza della propria esistenza imparando a percorrere il proprio sentiero e comunicando ed ebbero bisogno delle singole stelle anche questa poco a poco ebbero consapevolezza di sé iniziarono a percorrere il proprio sentiero quando le stelle compresero le leggi che regolavano il pulsare i movimenti dell'energia vitale compresero come da esse troppa energia vitale inutilizzata veniva dispersa nello spazio il meccanismo apparve in tutta la sua chiarezza l'energia vitale di un essere per quanto gigantesco questo fosse non poteva essere dispersa all'infinito nello spazio il tributo che le stelle avrebbero pagato era il collasso prematuro nessun essere per quanto grande può chiudersi in se stesso l'energia vitale ristagnerebbe trasformandosi in energia di morte disperdendosi nello spazio finché quest'ultima non trova una forza sufficiente per rimetterla in movimento dal momento in cui l'energia di morte inizierà ad accumularsi nell'essere costui avrà un solo desiderio costringe il maggior numero di esseri possibile ad ammalarsi di morte questo bisogno crescerà via via che la concentrazione di energia di morte si accumulerà dentro di lui fino al momento della sua morte questo è bisogno di ogni essere ammalato di energia di morte energia vitale stagnata per ovviare all'inutile dispersione nello spazio della propria energia vitale le stelle posero la propria attenzione sui pianeti vicini convogliando su di essi grande parte della propria energia vitale dispersa nello spazio qualche pianeta cominciò a diventare coscienza di sé iniziando il proprio percorso che l'avrebbe portato alla coscienza del sé nel momento in cui il pianeta o i pianeti del sistema prese o presero coscienza di sé intraprendendo il percorso verso la coscienza del sé si formò l'entità l'entità e qui abbiamo abbiamo praticamente urano stellato che ha preso coscienza le singole parti di urano stellato prendono coscienza di se stesse però attenzione in questo momento nasce Rea Rea non è altro che la coscienza del pianeta in sé stesso vedremo dopo come normalmente si definisce la terra come Gaia oppure come Rea oppure come Era in realtà Gaia è l'energia vitale in sé stessa Rea è la terra la coscienza della terra come pianeta e Era è l'essere natura cioè l'essere natura con una relazione con l'essere terra cioè è l'essere terra madre che genera la natura però è un aspetto diverso Era può essere considerata la coscienza generale dell'essere natura infatti Era combatte ferocemente Ercole perché le imprese di Ercole è la determinazione dell'individuo del singolo individuo all'interno dell'essere natura cioè praticamente è come se Ercole sfuggisse da essere parte della natura cioè preferisce la sua strada cioè preferisce diventare un dio diventare immortale per far questo deve sfuggire dal grande abbraccio di Era cioè deve dire a Era io sono un dio e per far questo fa il suo percorso di conoscenza e di consapevolezza pertanto tutto questo procedere questo trasformarsi non è altro che la trasformazione di quello che è l'universo con le forze in se stesse che vanno a formare che vanno a formare la vita e vediamo l'entità l'entità è il massimo essere meglio chiamiamolo coscienza che l'energia vitale è in grado di formare cioè formare in se stesso cioè io per esempio Claudio ho una coscienza di me questa coscienza del sé non è altro che formata anche da partecipazione specialmente da partecipazione delle singole cellule del mio corpo però anche le singole cellule del mio corpo hanno un percorso di libertà in base alle proprie determinazioni la risultante finale che io posso considerare che io posso concepire è la mia coscienza di me però io ho altri esseri dentro di me per esempio la flora batterica la flora batterica anche lei ha un percorso di libertà non è che questi esseri non hanno un percorso di libertà tutto tutto un percorso di libertà in base alle proprie determinazioni e ai propri adattamenti che si sono trovati nella vita pertanto l'entità qualunque entità è il massimo essere meglio coscienza che energia vitale in grado di formare in quel momento in quello stato in quella situazione l'entità si forma per aggregazione di coscienze di sé quando queste raggiungono nell'ambito dei percorsi specifici della propria specie l'ultimo stadio di sviluppo questo concetto che ha delle implicazioni è un concetto però fondamentale all'interno per esempio dell'essere natura però questo concetto che noi abbiamo all'interno dell'essere natura è un concetto che ha delle relazioni anche con la sedimentazione della coscienza a livello stellare facciamo un esempio facciamo un esempio di raggiungimento dei percorsi specifici della propria specie l'ultimo stadio di sviluppo mio nonno quando uscì dal brodo primordiale era solo una cellula o forse erano due cellule o comunque era un'entità molto piccola quel stadio di sviluppo della coscienza cui lui aveva raggiunto doveva fare dei salti di qualità quei salti di qualità non hanno altro che portato a delle sedimentazioni cioè hanno costruito delle situazioni per cui la mia coscienza le opportunità che io ho adesso della mia coscienza non è altro che il risultato di tutta una serie di stadi per cui tante coscienze vengono ad aggregarsi cioè io sono una colonia di cellule probabilmente sono una colonia di batteri nel senso che molte cellule aggreganti sono dei tipi dei batteri per cui hanno anche delle coscienze indipendenti che però rinunciano proprio a coscienza indipendente per formare una coscienza più generale so benissimo che ha molte implicazioni questo però come altri discorsi lavoriamo sempre su un filo di un rasoio non si può negare quello che è la realtà che ci circonda l'essere individuale giunto a un determinato livello di sviluppo non può più evolversi individualmente svilupperà il bisogno di sedimentarsi con altri esseri o della propria specie o più grandi di lui che hanno raggiunto il medesimo grado di coscienza di sé per continuare il proprio sviluppo nella ricerca del sé universale sia come individuo che come coscienza aggregata risultante dall'aggregazione di più coscienze l'entità rappresenta il più alto il punto più alto della coscienza di sé lungo la strada del sé raggiunta da tutti gli esseri in quel settore dello spazio io avevo già detto oggi per esempio per l'essere terra Gaia si accoppia sia con Urano stellato ma anche con i monti grandi si accoppia anche con Ponto nel senso che la terra è sì una coscienza di sé unica ma anche le frazioni della terra sono delle coscienze di sé l'amica che mi ha scritto oggi che mi ha detto io sono venuta in Italia sono stata in Italia quattro mesi e in Italia ci ho lasciato il cuore perché probabilmente venendo in Italia ha messo una sintonia fra il suo modo di percepire e le onde di percezione che da Italia giungevano a lei per cui questo è il senso di averci lasciato il cuore perché ogni terreno ogni zona omogenea oppure ogni nostra capacità soggettiva di percepire quella zona di percepire quei posti assumono una consapevolezza indipendente dall'insieme e vibrano è come se accidenti anche le tigri è come se vibrassero nei nostri confronti cioè vibrassero per noi per cui per noi sono degli esseri indipendenti per cui ecco da qui nasce la ninfa nasce la coscienza della montagna nasce la coscienza della valle cioè sono effettivamente delle coscienze indipendenti che però fanno parte anche dell'intera coscienza coscienza più complessiva che è l'essere terra pertanto quando ci sono degli stadi di sviluppo della coscienza di sé cioè dopo la morte del corpo fisico non tutti gli esseri della natura raggiungono la libertà ma sedimentino per esempio la loro coscienza all'interno di era cioè all'interno dell'essere natura altri esseri ancora non sedimentano neanche con l'essere natura ma sedimentano direttamente con l'essere terra altri esseri ancora la loro coscienza sedimentano col sole cioè la visione egiziana del carro che va sul sole non una delle varie delle varie visioni del dopo morte specialmente per quanto riguardava i faraoni cioè quelli che erano gli stragoni o alcuni sacerdoti egiziani era uno stadio altissimo di libertà perché sedimentare la propria coscienza con quella del sole significava diventare parte del sole cioè essere sole in pratica è come essere terra o essere natura cioè diventare parte di coscienze infinitamente più grandi che è assumersi su di sé quella coscienza che è una cosa veramente enorme per cui la ricerca della libertà dopo il morto del corpo fisico è un'altra cosa ancora pertanto esiste anche la formazione della coscienza per esempio Hera in quanto essere natura costruisce la sua coscienza la sua consapevolezza attraverso gli stessi esseri della natura che costruiscono il loro corpo luminoso da qui Hera si alimenta tutti i percorsi di determinazione dei soggetti che compongono il complesso della natura però nello stesso tempo questi esseri se vogliono raggiungere la libertà cioè se vogliono andare oltre la sedimentazione del loro corpo luminoso devono riuscire a imporsi ad Hera cioè devono riuscire ad avere un grado totalmente alto di determinazioni complessive per andare oltre a quello che è la natura stessa l'entità si manifesta come nodo di intersezione interazione di tutte le linee di tensione sia in entrata che in uscita anche qui il concetto di linee di tensione che dopo diventeranno dei io l'avevo già visto l'avevo già analizzato in percezione alterata è come se tutti i viventi avessero tutta una serie di linee di tensione che si intrecciano queste linee di tensione che si intrecciano sono linee di comunicazione o anche linee di interferenza linee di vibrare assieme linee di camminare assieme però in realtà non sono altro che le forze degli dei che ci attraversano e che noi utilizziamo per costruire noi stessi cioè nella misura in cui ci appropriiamo di quegli dei ci trasformiamo in un dio l'entità dicevamo è l'essere la cui coscienza di sé è la risultante del rapporto dialettico delle coscienze di sé individuali giunte all'ultimo stadio di sviluppo in quel settore dello spazio cioè quando in questo settore dello spazio tutte le coscienze di sé hanno raggiunto il massimo dello sviluppo parlo dell'essere terra parlo dell'essere natura parlo di tutti gli esseri che hanno conquistato la libertà parlo degli esseri pianeti parlo dell'essere sole a un certo punto l'essere sole esplode le coscienze che si sono costruite vanno a far parte della coscienza dell'essere sole cioè è l'essere sole che diventa il centro di tutte di sedimentazioni di tutte le coscienze di sé che si sono formate in questa parte dello spazio per cui noi comunque diventeremo parte di quella coscienza più grande che sarà quella dell'essere sole poi esistono coscienze ancora più enormi nello spazio ma comunque questo è il nostro cammino di sviluppo insomma che poi continua fino a quando le coscienze di sé tenderanno alla ricerca della coscienza del sé l'entità si espanderà in quanto ogni coscienza della ricerca del sé finirà prima o poi per aggregarsi diventandone parte integrante e insostituibile dell'entità stessa lo scopo dell'entità è quello di espandersi fino a fondersi con le altre entità informazioni nell'universo diventandone un tutt'uno aggregazione dopo aggregazione l'universo diventerà l'universo prendendo coscienza di sé e di tutti i sé di cui era diventato cosciente di tutte le informazioni precedenti solo allora ogni coscienza di sé individuale potrà giungere alla coscienza del sé questo perché la coscienza del sé è l'universo nella sua totalità sulla strada di ogni essere esistono tappe da raggiungere tappe fondamentali sulla strada del sé ma anche se individuabili col sé non sono il sé cioè quando l'essere feto costruisce la sua coscienza di sé quando lui ha finito di costruire la sua coscienza di sé muore il feto e nasce il bambino quella tappa di trasformazione è una tappa sulla strada del sé cioè la strada di diventare eterno però è una è una tappa non è ciò che è divenuto solo l'universo è il sé di ogni essere solo l'universo è sé di ogni entità è l'imperativo per l'entità preservare se stessa e le possibilità di espansione solo preservando se stessa può preservare l'espansione delle coscienze nella porzione di universo in cui si è formata per poter espandersi l'entità deve favorire punti e momenti di stabilità dell'energia vitale ogni punto e momento di stabilità dell'energia vitale implica la possibilità di innesto di una coscienza un nuovo momento una nuova coscienza almeno in potenza più sono i punti di innesto e i momenti e maggiore possibilità di espansione della coscienza ci sono ogni momento corrisponde a nuove specie in evoluzione ogni nuova specie corrisponde a nuovi esseri nuovi esseri corrispondono a nuove vie alla conoscenza di sé individuali e potenzialmente aggregabili all'entità nel continuum del proprio percorso espansivo più sono i momenti che giungono alla coscienza di sé alla ricerca del sé più l'entità acquista forza più sono le forze vitali in movimento e meno probabilità ci sono che energia vitale rallenti il flusso e si trasformi in energia vitale stagnata o energia di morte in ogni istante vengono a formarsi nuove aggregazioni di energia vitale nuovi momenti nuove specie quando ci avviene l'energia vitale cerca il suo punto di equilibrio molecole inerti di materia acquistano movimento e vita condizioni oggettive favorevoli aiutano il formarsi di una nuova coscienza e informazione molti frammenti vitali vanno continuamente perduti altri anziché estinguersi iniziano a riprodursi freneticamente in quel momento e solo in quel momento riproduzione equivale a sopravvivenza lo sviluppo della coscienza è un percorso lungo ha bisogno di cambiamenti tempo e qui entra in gioco la falce di crono mentre le prime aggregazioni di vita hanno cambiamenti poco numerosi hanno poco tempo prima della loro fine troppo pochi esistono due modi attraverso i quali le singole specie possono appropriarsi del tempo che necessita loro o dei cambiamenti se si preferisce attenzione le singole specie possono appropriarsi del tempo che necessita loro della falce di Gaia dilatando il più possibile il tempo soggettivo oppure riproducendosi freneticamente modificandosi di generazione in generazione appropriandosi del tempo loro necessario e concludiamo con la natura se ci riusciamo penso di sì la natura in questo modo viene chiamata la copertura dell'essere terra e in esiodo sarà era la natura dopo l'essere sole nel nostro sistema solare furono i grandi pianeti a sviluppare la coscienza di sé e ad incamminarsi lungo il sentiero del sé sole e pianeti formarono il primo nucleo dell'entità in questo settore di spazio subito questa entità comprese l'importanza per se stessa di sviluppare altre coscienze altre vie alla conoscenza e all'accumulo di energia vitale usufruente della materia e energia vitale esistente nello spazio e da essa dispersa era assolutamente necessario lo sviluppo di coscienze di sé molto piccole molto concentrate e molto mobili in modo che il loro sviluppo portasse alla riutilizzazione dell'energia vitale altrimenti dispersa nelle profondità dello spazio il movimento dell'energia vitale è inverso ha rinunciato la legge entropica la concentrazione maggiore assorbe la concentrazione minore a meno che non intervengano precisi atti di volontà volti a modificarne il corso le grandi concentrazioni cosmiche come il sole e i pianeti disperdono grandi quantità di energia vitale dal mio punto di vista dal loro è una quantità irrilevante nello spazio più o meno come le lumache nel loro percorso si lasciano una scia di bava per un essere vivente della natura la perdita di energia vitale è sempre un atto di volontà è sempre una scelta in un essere l'accumulo di energia vitale è chiamato potere di essere in realtà il termine potere non starebbe solo ad indicare la quantità di energia vitale posseduta ma anche la capacità d'uso dell'energia stessa se non intervengono fattori condizionanti anomali chi possiede grosse quantità di energia vitale impara anche ad usarla d'altra parte chi è capace di scambiare energia vitale è anche in grado di accumularne grosse quantità al termine potere non si vuole attribuire il significato comune attribuito in campo politico economico sociale il possesso di mezzi o di una carica o di una funzione sociale o di possesso non costituisce potere ma apparenza e fantasma di potere e l'abbiamo definito poi nel proseguo il potere di avere il potere e la capacità complessiva dell'essere di essere la sua capacità nel fare è potere di essere in contrapposizione al potere di avere il potere di essere e la capacità dell'essere di rapportarsi con il mondo circostante attraverso la forza generata dei suoi cambiamenti e non attraverso il dominio il controllo o il comando la superficie del pianeta terra si trasformò in un enorme calderone sul quale l'entità sia nel suo insieme che attraverso i singoli esseri e le singole coscienze riversò e riversa tuttora la maggior parte dell'energia vitale altrimenti dispersa nello spazio esposta all'energia vitale proveniente dal sole e molto sensibile all'energia vitale che dal centro dell'essere terra si irradia sulle superfici verso lo spazio presero a burrullicare milioni di miliardi di micro concentrazioni di energia vitale una parte di quei momenti cominciarono a stabilizzarsi queste forme viventi e queste forme viventi e l'elemento nel quale vivono e si sviluppano prende il nome di natura ecco e andiamo via via col proseguo di questo però ormai siamo arrivati quasi quasi alla fine quello che mi interessava molto farvi comprendere era come fin dall'inizio cioè dalle prime battute diciamo così del percorso di stragonaria quando ho cominciato a sviluppare verso l'esterno la consapevolezza che tutte le forze erano all'interno degli esseri erano all'interno degli enti erano all'interno delle situazioni e queste forze erano divine infatti parlo di essere terra essere sole erano entità è stata una consapevolezza fin dall'inizio a parte il fatto che avevamo un rapporto particolare con l'essere luna e anche con l'essere sole ma non è importante cioè fin dall'inizio gli oggetti che mi circondavano erano degli dei però fin dall'inizio questi esseri che mi circondavano erano relativi cioè non avevano mai una relazione di possesso ma erano degli amici erano dei compagni di strada erano delle delle coscienze che mi camminavano a fianco per cui non c'è mai stata sottomissione né all'essere terra né all'essere sole né alle divinità ma c'è sempre stata la consapevolezza che tutto ciò che alimentava i loro cammini alimenta anche il mio cammino è proprio perché alimenta il mio cammino potevo incontrarlo all'interno dei loro cammini pertanto questo è il paganesimo il paganesimo è il riconoscimento che nel mondo che ci circonda agiscono gli dei che agiscono dentro di noi è proprio perché gli dei agiscono nel mondo che ci circonda e dentro di noi noi possiamo alimentare quei dei farlo proprio chiamare noi stessi dei aprire le porte dell'Olimpo e incontrare gli esseri che si fanno dei nel mondo che ci circondano appropriandosi delle stesse forze che a loro volta sono dei perché Gaia è comunque una divinità anche se non ha coscienza è comunque la base di tutte le coscienze esistenti perché Gaia era coscienza e si va alla ricostruzione della coscienza di sé di Gaia cioè la coscienza di sé universo pertanto è comunque una divinità è una divinità che non esiste in questo tempo è una divinità che è proiettata in un cambiamento ma il cambiamento e il tempo è una questione che è abbastanza relativa nel senso che appartiene molto al nostro essere ma Gaia operava prima che il presente si fosse formato e opererà dopo perché il presente la costruisce e allora in tutto il paganesimo politeista possiamo dire che ciò che separa il paganesimo politeista da ogni religione rivelata da ogni altra forma religiosa è il concetto fondamentale per il quale il presente prendendo in mano la responsabilità della propria vita al di là di come lo fa al di là delle condizioni al di là dei propri adattamenti al di là se questo è accettabile o non accettabile proprio perché il presente fa questo va a costruire la coscienza universale è chiaro che l'incidenza che ha un virus all'interno della costruzione della coscienza universale è la stessa incidenza che ho io o che abbiamo o che ha un altro però questa è la nostra occasione non è che possiamo dire vabbè siccome ho il sole è più grande magari la galassia una galassia cosciente consapevole è finitamente più grande cosa vuoi che sia la mia partecipazione alla coscienza universale no la tua partecipazione alla costruzione della coscienza universale è l'unica cosa importante che ci sia nel senso che ogni essere che va a costruire il corpo luminoso è l'essere più importante dell'intero universo perché ogni parte dell'universo che va a costruire il proprio corpo luminoso è la più importante in se stessa per se stessa e per l'universo stesso pertanto non è che l'universo soccorra i miei sforzi ma l'universo si può aiuta i miei sforzi perché i miei sforzi sono gli sforzi dell'universo cioè quando io mi sforzo come Dio di camminare di prendermi nelle mie mani la responsabilità della mia vita io mi sforzo come l'universo e sono l'universo rappresento l'universo davanti a quanto mi circonda ricordatevi che sono tre gli elementi fondanti fondamentali attraverso i quali lo stregone opera tre sono primo è l'intento cioè le azioni dello stregone vanno sempre verso un intento se non c'è l'intento non c'è azione dello stregone secondo la volontà ricordate che il termine volontà non è il termine volontà che siamo abituati a a conoscere volontà è tutto ciò che è diverso dalla ragione la ragione è descrizione volontà è ciò che è esterno la ragione descrive una parte di volontà una piccola parte e ci permette attraverso questa di organizzare la nostra vita ma volontà ma volontà è la relazione dell'universo cioè ogni oggetto nell'universo si relaziona non è mediante l'azione non mediante la descrizione la descrizione la ragione muore quando muore il corpo fisico pertanto il corpo luminoso deve comunque agire deve comunque avere una consapevolezza e il corpo luminoso ha una consapevolezza non di un'altra ragione ma ha una consapevolezza in relazione ad altri oggetti attraverso l'azione e la relazione con altri oggetti attraverso l'azione può essere può possiamo chiamarla solo come volontà per cui abbiamo detto lo stregone agisce attraverso l'intento attraverso la volontà e agisce attraverso Gaia l'energia vitale manipola l'energia vitale in funzione dell'intento e attraverso la volontà ma la volontà non è un ente oggettivo la volontà è fabbricata da Gaia la volontà può essere espressa dalla coscienza cioè la coscienza che sia propria della necessità che la partorita e costruisce se stessa se l'ovulo e lo spermatozoo non si appropriano della volontà che gli ha messo insieme scusate della necessità che gli ha messi insieme attraverso una volontà che è il regalo che la specie è la falce è la falce dentata che la specie dà all'ovulo e lo spermatozoo per costruire se stesso nell'infinito nelle trasformazioni nel mutamento non nasce il bambino e così è lo stregone cioè lo stregone può agire attraverso la volontà cioè la falce di Gaia che si esprime all'interno delle sue mani buon allora vi ho dato l'inizio e la fine cioè l'inizio del percorso di stregoneria io l'ho fatto nel 1985 scrivendo questo libro ufficialmente cioè nel senso che usciva fuori in questo momento sto analizzando la teogonia di esiodo per cui parole che possono essere diverse ma che in realtà definiscono sempre gli stessi oggetti sempre le stesse consapevolezze con un'unica eccezione le linee di tensione che diventano cosciente coscienze di sé io ho un pochino di rassegna stampa se qualcuno vuole vi attacco i telefoni 049-600-600 049-700-838 bene vediamo un attimino qualche notizia di rassegna stampa intanto anche se oggi avevo tutta la rassegna stampa di 20 giorni ma ne ho fatto pochissima ne ho fatto pochissima perché sia il processo contro il prete sia il gay prete in realtà hanno un po' monopolizzato diciamo così quelle che erano le notizie religiose c'è una notizia sul mattino di Padova c'è una notizia sul mattino di Padova di oggi vedrò magari di scaricarla da internet se ci riesco è praticamente una notizia locale in cui un aderente all'UAR agli anticlericali riusciva a far riconoscere da parte di un magistrato dopo aver perso un paio di cause contro la chiesa cattolica perché voleva sbattezzarsi riesce a far dichiarare da un magistrato che le cose della chiesa cattolica appartengono alla chiesa cattolica e non alla società civile beh il discorso che le cose della chiesa cattolica appartengono solo alla chiesa cattolica e non devono incidere alla società civile per cui il prete non è un funzionario ma è solo un individuo qualsiasi un prete può avere valore soltanto per chi è cattolico non per le altre persone anche se i preti pensano di essere i padroni della vita per cui si permettono anche di stuprare i bambini così tanto loro sono i padroni vedono padre Pio su un cartellone dal gazzettino del 13 aprile del 2000 da alcuni giorni numerosi di voti padre Pio sostengono di vedere il volto del frate apparire su un cartellone pubblicitario in pieno centro di San Ferdinando di Puglia cosa non si farebbe per avere un po' di turisti proveniva dal Brasile maxi corredo satanista sequestrato a Fiumicino è notizia del 21 del 4 21 aprile del 2000 del gazzettino in realtà erano semplicemente addobbi per un bar ma ormai anche gli addobbi per un bar mandano fuori di testa i cattolici dal gazzettino del 4 maggio del 2000 Turchia arrestati due attivisti cristiani la polizia turca ha arrestato un 39enne tedesco e un 33enne turco perché distribuivano bibbie a San Yurfa sequestrate 114 bibbie scritte in turco infatti nel paese la maggioranza musulmana non è fare propaganda vendere bibbia e comunque spacciare il cattolicesimo è un reato per cui è chiaro che questa legge verrà rimossa dalla Turchia però è questione che là è ancora un reato fare propaganda cristiana e questo vale anche per il Marocco comunque lavoratori del tutto il mondo attenti al mobbing della nuova Venezia del 4 maggio del 2000 mi ricordo l'aveva detto anche un radioascoltatore questa che stavo facendo il mobbing in quel momento a proposito il mobbing è stato presentato anche su internet sul sito di Tripod trovate anche alcuni pezzi del mobbing e strategia della stragonaria per l'uscita dal mobbing dalla nuova Venezia del 4 maggio del 2000 polemica comune curia per una vignetta e polemica a Foligno farà curia vescovida il comune per i contenuti della vignetta vincitrice dell'undicesimo concorso internazionale dell'umorismo umor festa sul tema giubileo 2000 pellegrini a Roma la giuria presieduta pronto ciao Claudio volevo farti tre domande cosa ne pensi il rom perché non voglio dire zingono in senso pregiattivo perché io insomma no amo voglio bene i barboni non ho nessun capisci sono persone voglio chiederti a differenza non so forse di voi che usate il fuoco come rito di comunicazione per gli dèi loro invece lo fanno contro gli spiriti malevoli no? ecco e dopo volevo chiederti che funzione ha come si dice la legge di giustizia come si dice che funzione ha a riguardo della chiesa cattolica cristiana e dopo volevo dirti tu hai detto stamattà oggi insomma non so che ore prima ore pomeridiane che ti sei messo in comunicazione con la pianta o l'albero e volevo sapere se per piacere mi specifichi in che senso insomma se per tramite uno dei dei o cosa grazie grazie ciao allora intanto chiudiamo le telefonate perché Stefano è già qui prima di tutto io mi sono messo in comunicazione attraverso esercizi di contemplazione di meditazione attraverso il sognare per cui c'è un'altra cosa questi esercizi chiunque li può fare il problema è un altro il problema è che i veri esercizi sono affrontare i problemi nella quotidianità cioè è la capacità dell'essere umano di vivere in condizioni di agguato che è una condizione mentale che trasforma l'individuo dopodiché ci sono ci sono esercizi ci sono tecniche che ti aiutano a entrare in comunicazione però tutte queste comunicazioni sono tutte cose che hanno un valore soggettivo cioè io non ti potrò mai dire a te credi a me che questo c'è perché o lo raggiungi tu o per te questo non deve essere vero però per me mi dà la sicurezza mi dà la certezza di quello che sto facendo cioè mi costruisce il mio cammino dopodiché a un'altra persona non posso dire di tu credi in me che io parlo con gli alberi che parlo con il sole ma posso invece dire di cosa dobbiamo fare per costruire al meglio la vita questo è importante non il fatto che io parli o non parli con gli alberi l'importante è cosa io propongo cosa io propongo per andare a costruire la vita e se questo può essere utile o non utile per quanto riguarda la giustizia cattolica è davanti a uno che dice mi sono il paron degli uomini gli uomini se bestie Dio me li ha dati e nessuno me li toglie e penso che non ci sia niente nessuno da dire per quanto riguarda ai rom il fuoco il problema è che non è che dobbiamo avere rispetto per questo o quell'individuo dobbiamo necessariamente avere rispetto per ogni individuo indipendentemente non solo dalla razza ma anche indipendentemente da quello che fa perché se l'unica occasione che ha lui per vivere è quello di metterti un coltello alla gola ragazza mia devi fare in modo di non trovarti mai apporgere una gola davanti a un coltello devi vivere strategicamente devi vivere d'aguato l'uso del fuoco che facciamo noi non è altro che un modo per esporre l'intento e chiamare gli dèi cioè chiamare il mondo circostante attraverso il nostro intento cioè attraverso l'intenzione di prendersi le nostre mani la responsabilità della vita mettendo nel fuoco qualcosa che a noi fa piacere tipo piante aromatiche o cose di questo genere per quanto riguarda poi l'uso che ne fanno i zingri per scacciare per scacciare gli spiriti in realtà è vero questo cioè gli spiriti neri difficilmente si avvicinano ad un fuoco ben alimentato dove ci siano canti danze o gente magari che beve perché lo sviluppo dell'energia di questa gente di questo fuoco tiene distante l'energia mortale questo è un dato di fatto insomma cioè praticamente la vita la trasformazione la velocità della trasformazione tiene distante i spiriti neri troverete invece milioni di spiriti neri nelle chiese la gente contritta la gente in ginocchio regala gli spiriti neri tonnellate di energia vitale stagnata io spero di averti detto abbastanza vi ricordo che io sono Claudio Simeoni il mio indirizzo è Piazzale Parmesano Otto Marghera l'indirizzo dell'istituto Mediterraneo Studi Politeisti Casella Postale 53 Malostica Vicenza se qualcuno interessa che vuol prendere contatto sappia che ad agosto faremo il rito sull'altipiano di Asiago come gli altri anni ciao ancora e a risentirci a giovedì prossimo